Il go-kart! Oh, 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 no! Mike, sta attento! Cos'è successo? Non lo so, si sono rotti i freni. Ora metterò questi cunei di legno sotto le ruote per evitare che si sposti mentre siamo fuori. Ecco fatto, adesso sono più tranquillo. Mike, io dovrei già essere alla caserma dei pompieri per una lezione sul pronto soccorso. Oh, sì, ho capito, sta arrivando, Ellen. Ehi, mi scusi, io vorrei costruire un go-kart e mi chiedevo se lei poteva aiutarmi. Ecco il progetto. Mi dispiace, ti aiuterei volentieri, ma adesso devo proprio andare, magari più tardi. Che ne dici? Ma la prego! Posso almeno prendere del legno? Dai, bel pupazzo, vuoi ballare con me? Lo so che ti piacciono, non puoi dirmi di no. Smettila subito di ballare con il manichino. Elvis, dovresti prendere più seriamente queste lezioni di pronto soccorso, quindi devi considerare quel manichino come una persona reale. D'accordo, Ellen, scusami. Bene, allora, come stavo dicendo, nel caso di massaggio cardiaco è estremamente importante... Oh, ciao, Norman. Ma che cosa stai facendo? Mi serve un pezzo di corda per il mio go-kart. Ma non puoi prendere quella, serve a tenere la barca attraccata al molo. Aspetta, forse qui ho qualcosa che potresti usare. Andiamo, per favore. Vai di fretta, a quanto vedo. Sì, io sto costruendo il miglior go-kart della storia. Beh, che cosa ne dite? Le ruote sono della mia vecchia carrozzina. A me non sembra molto sicuro. Per questo c'è la cintura di sicurezza. Vuoi dire la cintura di tua madre? E anche il casco. Soddisfatti? No, io non sono convinta. Oh, hai ragione. Beh, sì, in effetti non è ancora abbastanza sportivo. Mi serve altro legno. Senti, sarà già tornato tuo padre. Allora, questo è per lei e questo invece è per te. Elvis, che cosa ci fa quello al mio tavolo? Sta pranzando. Ellen prima mi ha detto di considerarlo una persona reale. Ma ti ricordo che non è una persona reale. È soltanto un manichino. Shh, signore! Lei così lo sta offendendo. Pecore sulla strada. Senti questa, Sam. Se proprio lo vuoi sapere, preferisco un bel karaoke, Elvis Per fortuna abbiamo i freni che funzionano bene Ma che ci fa, Wall-E, in mezzo alla strada? Evidentemente deve essere scappata da qui Vieni, Wall-E! Dai, fermati! Il cancello rotto è pericoloso per gli animali e anche per gli automobilisti Torna qui, Wall-E! Adesso portiamola dai Price E poi dovremo chiedere a Mike Flood di venire a riparare il cancello Brava, Wall-E! Ehi, ma come hai fatto, Sam? Elvis! Un vecchio trucco da pastori Ciao, Mike, sono Sam Ti chiamo perché ho un lavoretto urgente per te Un cancello dei pascoli da rimettere a posto Sì, non appena puoi, grazie Dai, mamma! Quanto tempo ci vorrà ancora? Lo so che vuoi tornare a giocare con i tuoi amici Ma hai avuto un brutto raffreddore Prima devi guarire Bene, e adesso un bel bicchiere di latte caldo, d'accordo? Ok, mamma C'è nessuno? Ehi, è Sam il pompiere E c'è Wall-E con lui Adesso vai dentro, Wall-E Non preoccuparti, Sam La terremo d'occhio noi A Norman farà piacere avere un po' di compagnia Appena sarà riparato il cancello Ti chiamo, così potrà riportarla al pascolo Grazie, Dillis Non rosicchiare niente, Wall-E Buongiorno, ragazzi La carrozza è pronta Buongiorno, signor Evans Io voglio l'ultimo sedile Prossima fermata, la casa di Norman Price Non ci vorrà molto solo una giustatina Ah, ecco, questi sono perfetti Grazie, siete stati un pubblico stupendo Ops Ellen, tesoro Senti, oggi farò un po' tardi per pranzo Buongiorno, Dillis Dov'è Norman? Oh, è ancora un po' raffreddato Oh, allora salutalo da parte mia Sei fortunato, Norman! Fortunato Io darei la mia paghetta per essere là fuori Invece che chiuso qui dentro Mi dispiace, Wall-E Mamma dice che devo restare a casa Doppio pericolo Squisito come al solito, Bronwyn Grazie, Sam Oh, oh, guai in arrivo Ascolta, Sam Indovina cosa è successo? Oggi abbiamo fatto tantissime gare E le ho vinte tutte io Tu hai vinto solo quella dei sacchi Io ho vinto la corsa di velocità Quella dei salti e quella all'indietro Quanto mi piacerebbe che voi due la smetteste con queste vostre continue gare Quando Charlie ed io eravamo ragazzi Andavamo in esplorazione nei boschi Seguivamo le tracce, osservavamo gli uccelli e cercavamo fossili Era divertente Andiamo anche noi in esplorazione nei boschi, mamma? Sì, e potremmo chiedere a Mandy e Norman di venire con noi Sì, mi sembra il modo perfetto di passare un pomeriggio Vuoi venire con noi, Sam? Mi dispiace, verrei volentieri, ma oggi sono di servizio Mi è venuta un'idea Vediamo un po' chi di voi due mi porta il reperto più strano ed interessante, d'accordo? Oh, te lo porterò io No, io! No, io! Ho chiuso! Smetti la radar! Allora, vuoi calmarti adesso? Non così forte la prossima volta, Elvis Mi scusi, non so che farci, ma vedi, signore, io mi entusiasmo un po' troppo quando vinco Povero radar, mi chiedo perché oggi sia così agitato Forse sente qualcosa che non va? No, secondo me ha soltanto bisogno di essere addestrato da un esperto in materia Sì, ma dove lo troviamo? Eccolo qui! Sono io! Andiamo, radar! Vieni! Radar! Qui! Cosa ho detto? Ma che gli sarà preso? Oh, non ne ho idea Comunque è tutto il giorno che si comporta stranamente Forse sta arrivando un temporale Sembra che i cani possano avvertirlo prima Radar è troppo sensibile, ecco il problema O forse non è abbastanza coraggioso per lavorare con i pompieri Guarda, sarei James Non fanno che competere in qualsiasi situazione C'è nessuno! Sta' attento, Norman Non vorrei che tu ci cadessi dentro Questo a Sam piacera molto Io non lo chiamerei certamente un reperto strano o interessante E in ogni caso non ti entrerebbe mai in tasca Ehi! Ho appena trovato il dente di un dinosauro! Evviva! Questo non lo batterai mai di sicuro Questa non è una gara, ragazzi E comunque quello non è un dente di dinosauro È soltanto un vecchio sasso La torre in fiame È da un po' di tempo che pensavo ad un addestramento di questo tipo Ora, noi appiccheremo un incendio alla base della torre di addestramento E cioè qui Per andare a salvare una persona all'ultimo piano Cioè qui A questo punto io nomino Sam Responsabile operativo degli autorespiratori E Penny Ufficiale della sicurezza dell'intera operazione Sì, signore Ed io che cosa faccio, signore? Oh no, voglio sperare che non sarò proprio la persona da salvare Magari No, tu sarai il numero due di Sam E tutti insieme dovrete salvare Dolly Ma non è il vecchio manichino che abbiamo sempre usato nell'esercitazione? Sì, ma con una parrucca Non badiamo a spese noi Nessuno a Pontipandi mi batte a nascondino Ma scherzi Quando io mi nascondo divento invisibile Ma che dici? Non è vero Sentite, io credo che voi siate entrambi molto bravi a nascondervi E adesso potremmo smetterla di litigare Ho un'idea Perché non facciamo una bella gara e vediamo una volta per tutte chi è il più bravo tra di voi? Che cosa? D'accordo Sara e James dovranno provare a trovarci Io ci sto E adesso, ragazzi, che vinca il migliore Cioè io Cerca almeno di non nasconderti in un posto pericoloso, d'accordo? Uno, due, tre Così dovrebbe bastare, Sam Senti, Sam Vuoi che faccia in modo che Dolly finga anche di salutarci? Così forse potrebbe essere più emozionante E' più emozionante Per venire Tom Thomas Coraggio, vieni con me, Sara Andiamo a cercarli lungo il molo Questa volta troverò un nascondiglio migliore del solito Allora, li hai trovati? Guardatela Non sembra una vera signorina Non ti sarei preso una cotta per Dolly? Bene Bene A questo punto ci siamo meritati un bel tè Aria calda Trevor, qualcosa non va? No, Sam È solo che ci mette un pochino ad accendersi la mattina Visto? E poi io ho il tocco magico Trevor, non senti anche tu questo caldo? Io sto morendo No, va tutto bene Poi io preferisco un po' di caldo Alla pioggia degli ultimi giorni Anch'io Non c'è niente come il sole Visto che si è rasserenato Oggi pomeriggio io andrò alla ricerca del falco pellegrino Il falco pellegrino? Io lo conosco È una specie molto rara È anche la creatura più veloce sulla terra Scommetto che tu non lo sapevi Mi dispiace Norman Ma non è così Tu vorresti vederne uno Ma certo Se soltanto avessi un binocolo Norman potrebbe aiutarti ad avvistare uno di quei falchi pellicani, Trevor? Si chiamano falchi pellegrini E poi non ho bisogno di aiuto Grazie Ma se vuoi Oggi pomeriggio puoi venire con me, Norman Davvero? E possono venire anche Mandy e i gemelli con noi? D'accordo Perché no? Faremo un'osservazione di gruppo Bene Adesso fate attenzione, ragazzi Certo E anche ragazza Immaginate che questa sia una scatola di fusibili Sam Avrei bisogno di un favore Non adesso, Norman Non lo vedi che siamo nel bel mezzo di un'esercitazione? Siete stati chiamati per un'emergenza Allora, a questo punto, che cosa fareste? Oh, ecco, è molto facile Allora, apro la scatola e spengo il fuoco, signore D'accordo Vediamo che cosa succede Oh, così ha solo peggiorato le cose Il nostro Norman ha ragione L'aria ha alimentato le fiamme E quindi, aprendo la scatola Ho soltanto facilitato la combustione È chiaro? Io non ci avevo pensato Sam Per favore, può prestarmi il suo binocolo? Il mio l'ho perso E più tardi Trevor mi porterà in cerca del famoso falco pellegrino D'accordo, Norman Ma devi promettermi che ne avrai cura Sentite, voi lo sapevate che il falco pellegrino Può volare ad una velocità di oltre 300 km all'ora? Non ci credo, su serio? Beh, non è proprio così, Norman La velocità più alta mai registrata È di soli 286 km all'ora E che aspetto hanno, signor Trevor? Ecco, le piume delle ali sono grigio, scuro e... Ho fatto pellegrino! Scusate, falso allarme Norman! Allerta sulla spiaggia Sembra che ci siano delle casse alla deriva nella baia di Pontipati Devono essere cadute da qualche nave durante la tempesta, signore Beh, ora sarà meglio avvertire Charlie Jones Non vorrei proprio che ne urtasse qualcuna durante la pesca Sì, io prendo Neptune per fare una ricognizione Dov'è Cridlington, Sam? Ecco, è in ritardo, signore Di nuovo? È la terza volta questa settimana E siamo soltanto a mercoledì Sono sicuro che ci sarà una buona ragione Ma non si preoccupi, più tardi andrò a verificare di persona Bene, finché non si saprà cosa contengono quelle casse Io resterò a terra E non voglio che voi due andiate sulla spiaggia Non vorrei che qualcosa di pericoloso arrivasse a riva Ma papà, oggi è una giornata fantastica James! Ti prego, io ti prometto che starò attento Va bene, papà? D'accordo? Ah, d'accordo, James Sì Dai, Sara Papà ci ha dato il permesso Andiamo a costruire un grande castello di sabbia Ma oggi non ho nessuna voglia di costruire un castello di sabbia E poi, se una di quelle casse arrivasse, arriva Tu non sei divertente James! James, torna qui Io sono divertente Qui nella baia è tutto a posto, signore Dà un'occhiata anche davanti al porto, Penny Ricevuto, signore Sorpresa Ciao, Mandy Sono felice di non essere l'unico sulla spiaggia Andiamo all'avventura? Oh, ma certo! Bene! Allora, questo è il posto adatto Guarda! Elvis, ma non è possibile Elvis Dai, sveglia Sam, sei davvero tu? La casa sta andando a fuoco No! Sei soltanto in ritardo, come al solito Oh, no La festa della mamma Oh, è stato visto del fumo uscire dalle finestre di casa Flood Oh, santo cielo! Un vicino ha visto uscire del fumo da casa Flood Sam, accorrete sul posto Signora Price, signora Price Ci apre, la prego Siamo chiusi Ma noi vogliamo servire la colazione a letto alla mamma Perché è la festa della mamma Siamo rimasti senza uova Buona festa della mamma, signora Price Buona festa della mamma Anche Norman le ha fatto una sorpresa stamattina No, io credo che il mio angioletto dorma ancora Ma oggi dovrebbe rimanere lei a letto Sì E Norman dovrebbe prepararle la colazione Oh, no Oggi è di nuovo la festa della mamma Sorpresa! Buona festa della mamma! Oh, Norman! Sei un vero tesoro No, non è vero No, le ha soltanto dato una scatola di cereali Ma ora perché non tornate da vostra madre? Oggi non dovevate prepararle la colazione? Sentiamo Quali altre sorprese hai in serbo per la tua mamma, Norman? Non lo so Adesso vado un po' sullo skate Ciao! Mi dispiace, ma ho paura che sia stato un falso allarme Stamattina Mandy ha preparato la colazione per la madre E lui mi ha aiutato È lui che ha bruciato il toast Io non l'ho affatto bruciato Ho soltanto dimenticato che era nel tostapane tutto qui Posso offrirvi un toast, ragazzi? Stavolta non lo brucio, promesso No, grazie, Mike Adesso dobbiamo tornare in caserma Nel caso arrivasse un altro allarme Ciao, Mandy Ti va di andare un po' sullo skate oggi? Mi dispiace, Norman Ma ora voglio stare con la mamma È la sua festa, non lo sai? Tu oggi hai fatto qualcosa di carino per tua madre? Certo Le ho dato una scatola di cereali Norman Ora penserà che non ti importa niente di lei Guarda Mandy mi ha costruito questo stupendo portacarte Pensa, ne stavo facendo uno anch'io Al lupo! Al lupo! Oh, grazie, Sam Mi sento più sicura con un rilevatore di fumo Non c'è nessun problema, Dillis Adesso lo provo e poi tornerò in caserma Norman Price Quante altre volte dovrò ripeterti di andare a giocare fuori? Non posso Oggi c'è troppo vento fuori Sam! Aiuto! Al fuoco! Al fuoco! Sta tranquilla, Dillis Sto solo provando il rilevatore di fumo Oh! Se scoppiasse un incendio Devi rompere quel vetrino Ma ricordati soltanto in caso di un incendio Norman! Vai fuori! Via! Oh! So già che combinerà qualche guaio con quel pallone C'è davvero troppo vento per giocare fuori Norman Price scarta il terzino Si libera del centro campista che l'ha seguito Si porta al limite dell'area Tira e... Oh, accidenti! Un incendio al supermercato di Dillis Incendio al supermercato Cat Price Sam! Fate in fretta! Oh no! È scattato all'improvviso da solo Non vedo fumo Ne sento puzza di bruciato Non sono un investigatore Ma io non credo che il rilevatore di fumo sia scattato da solo Vuoi dire... Norman? Oh, quel ragazzaccio! Qualcuno ha fatto dei danni qui Sì, sono stati i gabbiani O almeno credo Forse avevano fame Potrebbe anche essere stata una volpe Ho appena scoperto una tana vicino al centro di soccorso alpino Oh, io adoro le volpi Sono così... Ecco... Carine In realtà va pazza per gli animali di qualunque genere Oh, e allora siamo in due Hai visto dove è finito il mio pallone, mamma? Una situazione appiccicosa Ma come avrà fatto un incendio a scatenarsi proprio qui, Sam? Come ben sai, anche i raggi del sole possono provocare un incendio In particolare se passano attraverso un vetro o un pezzo di plastica In una giornata calda come questa In effetti sto morendo di caldo Perché adesso non mi innaffi con l'idrante, Sam? Penso proprio di avere un'idea migliore della tua per rinfrescarci Che ne dici di un bel tè ghiacciato? Adesso vado subito a prendere un po' di ghiaccio al supermercato Per fortuna che ero qui, Norman Va tutto bene, Trevor? Hai corso un bel rischio Ascoltare musica con le cuffiette mentre si attraversa la strada è molto pericoloso Non senti quando arrivano le macchine Mi dispiace, Sam Io stavo solo provando il mio nuovo lettore MP3 Mia mamma me l'ha regalato per il mio compleanno Parla più piano, stai urlando Oh, chiedo scusa È un bellissimo regalo di compleanno, Norman Ma io ti suggerisco di usarlo soltanto lontano dal traffico Ma... Norman! Ciao, Mandy! Ti stavo cercando, ti ho portato un regalo di compleanno Davvero? Fammelo vedere L'ha lasciato adesso la tua madre Andiamo! Questi ragazzi di oggi... Mamma! Mamma! Dov'è il mio regalo? Non dirmi che sei già riuscito a perderlo No, mamma Io non sto parlando del tuo regalo Ma di quello che mi ha fatto Mandy Oh, ma certo! Eccolo qua, tesoro Buon compleanno! Oh, un aeroplano! Forte! Ehi! Ma... Ma è da montare? Lo credo bene È un modellino L'idea è di mio padre Ecco, qui ci sono le istruzioni Prima si incollano i vari pezzi Poi si dipingono E l'aereo è pronto Allora, vado subito a montarlo Di grazie a Mandy Di grazie a Mandy Oh Norman! Tesoro, hai lasciato il lettore M3P Questi pezzi sono troppo piccoli Io avrei bisogno di una lente di ingrandimento Per vederli bene Ecco Adesso va molto meglio Guarda le eliche Oh, chissà dove andrà questo pezzo Ma perché prima non leggi le istruzioni? È inutile Tanto ho già capito Come si fa a montarlo Dinosauro Ciao Norman Cerchi un tesoro? Sì Ma finora ho trovato solo pezzi di legno Guarda Io ho trovato un fossile È un'ammonite Ed è vecchia di milioni di anni Più antica ancora dei dinosauri Forte! Peccato però che non sia un dinosauro In questa zona ce n'erano Lo sai? E si possono vedere ancora le loro orme impresse nella pietra Guarda Come questa Wow! Ora andrò in cerca di impronte di dinosauro Dove vai Norman? Non è proprio il caso La marea sta salendo e ti ritroveresti nei guai Non importa Tieni Ti regalo la mia ammonite D'accordo? Davvero? Grazie Trevor Ben fatto ragazzi E anche Ragazza Ora l'incendio è domato Ma guardate lassù Non si preoccupi signore Quello è soltanto un manichino Lo prendo io signore Anche i manichini vanno salvati Cridlington E in queste situazioni è molto importante Saperli sollevare Sam adesso ci mostrerà come procedere Nota come un buon pompiere E' sempre ben saldo sui suoi piedi Capitano Steel Va tutto bene signore? Quasi James Sara Ho qui qualcosa che scommetto Voi non avete mai visto E che cos'è? Guardate E' un piccolo di dinosauro Ma quello non è un dinosauro Quella è un ammonite Ce ne sono tantissime qui intorno Non sapevo che voi foste così intelligenti Ma scommetto che non avete mai visto un vero dinosauro Ma certo che no Ormai non ce ne sono più ai giorni nostri E invece si Io ne ho appena visto uno sulla spiaggia E so anche dove vive Non è vero Glielo farò vedere io Dovrebbe tenerlo a riposo per qualche giorno Il problema è il legamento Oh sciocchezze Io ho un lavoro da portare avanti E comunque mi sento in forma come quando Oh sì Ecco forse un po' di riposo mi farà bene Ecco sì farò così E' molto meglio così signore Mi creda Bene ecco fatto E adesso ritorniamo alla spiaggia Finito Finalmente delle impronte di dinosauro Scommetto che adesso i gemelli le scambieranno per vere La gara di pesca Allora porti i ragazzi a pescare Sopra così Dillis Io glielo avevo promesso Esatto Oggi faremo una gara Sì a chi pescherà il pesce più grande Tra questi due diventa sempre tutto una gara Il mio Norman è un pescatore provetto Vero tesoro? Ma certo Una volta ho preso uno squalo grande Quasi come tutta questa stanza Oh è vero Era gigantesco Quanto avrei voluto vederlo Ma gli è scappato Non è così Norman? Strano come siano sempre le prede più grosse a scappare Ma invece è vero Oggi portatemi a pescare con voi E scommettiamo che prenderò il pesce più grosso di tutti Scommetto di no Impossibile E va bene Norman Io ci sto Vogliamo andare? Io Ecco Mi lasci solo il tempo di prendere un maglione D'accordo Allora ti aspetto in barca tra cinque minuti Prendetene uno anche per me Non ti sporgere troppo Norman Siediti per favore Posso mettermi al timone? Sì magari più tardi Ecco oggi ci fermeremo qui Ecco Tieni è già pronto Ho messo l'esca Oh attento agli ami Fungono Norman vuoi tenere ferma quella lenza O spaventerai tutti i pesci? Ho preso qualcosa Io avevo preso qualcosa Dico davvero Ed era grande così Sì lo sappiamo E poi è scappato Un altro sgombro Ben fatto Comunque Sara il mio era più grosso Andiamo James Questo è molto più grosso Fatemi vedere i pesci che avete pescato e io li misurerò Oh ma sono proprio della stessa misura È gigantesco E stavolta non mi scapperà di tutto Questo è il più grande di tutti E stasera lo mangeremo per cena Oh ed è già pronto da cucinare Sei andato a pesca nel freezer per caso? Sei un imbroglione Era solo uno scherzo Tirate sulle lenze ragazzi Sta salendo la marea Ed è ora di rientrare a casa Comunque ho vinto io Perché ho preso più pesci di Sara Non è giusto La gara ci prendeva il pesce Blackout Oh mamma Eri davvero bellissima È una fotografia del nostro matrimonio 15 anni fa E sai una cosa mamma? Io ho invitato alcuni dei nostri amici più cari Per festeggiare il nostro anniversario In giardino Stasera Papà e Elvis ti canteranno una canzone Shhh Mandy Ops Stupendo Preparerò qualcosa Tu non farai niente del genere Oggi penserò io a tutto Hai capito bene? A tutto Ho detto Sono in ritardo Mi scusi tanto In ritardo? Non è certo da te Elvis Ecco Ho dovuto comprare un nuovo rilevatore di fumo per Dillis Signore Me l'aveva chiesto Sam E che cosa dovevo fare adesso? Ah sì Le salsicce Ma perché hai tutta questa fredda? Oh, devo prepararmi per la festa di anniversario dei Flood Sam, Mike ed io abbiamo scritto una canzone per Ellen Ciao Elvis Hai comprato quel rilevatore di fumo? Ma certo che l'ho comprato Sam Eccolo Grazie E auguri per stasera Oh, grazie Sam Ci vediamo Ehm Elvis Grazie Sam A dopo Oh, è così gentile da parte tua Non c'è problema E poi non potevamo certo lasciarti senza rilevatore di fumo, giusto? Me lo passeresti, Norman? Oh, ma che succede ora? Certo che è strano come rilevatore di fumo Elvis Torno subito È importante che i cavi elettrici siano a riparo Vedi? Così nessuno potrà inciamparci Bene E ora ecco il momento della verità Stupendo Oh, è fantastico E guardate qui, io ho portato le salsicce Ma quali salsicce? È un rilevatore di fumo Chiedo scusa, torno subito Elvis Sei sempre il solito Ma non posso crederci, sta per piovere Non può essere Invece sì, svelta Portiamo tutto dentro Appena in tempo Hai visto Elvis per caso? Mi ha dato le salsicce invece del rilevatore di fumo Scusa, Sam Questione di fiuto Allora guarda bene Elvis Attento radar Rotola Rotola Visto? Ho fatto un corso per istruttori Sarò anche vecchio ma non trascuro mai di imparare cose nuove Oh, sa rotolare anche lei, signore Molto divertente Ascolta Ho lasciato sul tavolo in cucina il pranzo per tutti Ma sarà meglio che tu lo ricordi a papà Mamma Perché dovrei ricordare a papà del suo pranzo? Perché tuo padre è talmente distratto che dimentica qualunque cosa Non è vero, non è vero Ciao Mike Sto andando a fare una bella passeggiata sulla collina E se non sono tornata per cena mandate pure una patuglia Non dimenticarti di tagliare il prato Vedrai che ti piacerà Le escursioni in montagna sono stupende Ma ti porti sempre dietro tutta questa roba È sempre meglio essere preparati E scommetto che tu hai il kit per il pronto soccorso È vero Ormai lo prendo senza neanche pensarci Comunque ho portato anche da mangiare Perfetto D'accordo Allora adesso possiamo anche andare Forza Scusa Questo lo faccio sempre senza pensarci Figurati Comunque io scenderei per le scale Sai Io ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa Ciao Sam Elvis Ehi ciao Sam Io sto cercando di ricordargli come sci rotola Ricordargli? Io non sapevo neppure che riuscisse a farlo Ma scherzi Guarda Rotolati radar E bravo bello E' il giorno ideale per una passeggiata Ecco che cosa avevo dimenticato Di controllare le previsioni meteo Quelle posso dartele anche io Sole e bel tempo Guarda il cielo A volte in montagna il tempo cambia molto rapidamente Per questo controllo sempre le previsioni prima di uscire Se siamo dove credo che siamo Da quella cresta dovremmo godere di una vista stupenda Dai forza Andiamo a vedere Se l'allarme inizia a suonare Sam sa sempre cosa fare Se nei guai ti caccerai Sempre Sam tu troverai Su forza chiama Sam Il bocchiere adesso arriva Sam Il bocchiere sotto di noi Sam è con te quando vuoi Attenti ai fuochi Fuochi d'artificio? Ma dove li hai trovati? Ah, in laboratorio Questi sono fantastici Attento! I fuochi d'artificio possono essere molto pericolosi Adesso ricordo Li avevamo comprati per il capodanno Ma poi è piovuto Potremmo usarli stasera? Dai, per favore Soltanto quelli piccoli Oh, d'accordo Perché no? Invitate i gemelli E anche Sam Fa sempre comodo avere un pompiere in queste situazioni Per sicurezza Non vi pare? Oh, grazie papà Sei il migliore È incredibile Ma che ore sono? Possibile che oggi non succeda niente Di cosa ti lamenti? Vuol dire che tutti a Pontipandi sono al sicuro Evidentemente sono stati efficaci gli opuscoli che abbiamo fatto circolare Continua così, ci ritroveremo senza lavoro Io vorrei fare il giocoliere in un circo Facci picchia È meglio di no Ehi, indovidate un po' Stiamo organizzando una... Norman Price Tu hai idea di quanto tempo avessi impiegato a costruirlo? Non è stata colpa mia Ora andiamo fuori, eh? Fuochi d'artificio a casa tua, Mandy Mi piacerebbe tanto Ma non posso, mi dispiace Sono di servizio stasera È meglio che leggiate questo opuscolo sulla sicurezza Un momento Seguite i miei dieci consigli e filerà tutto quanto liscio Non accendete fuochi d'artificio nel vostro giardino E comunque utilizzate solo sostegno a norma di legge Eh? Ma tu non hai sostegno a norma di legge Quindi ora che cosa facciamo? Hai ragione Sarà meglio che papà non lo legga Tanto lui sa già tutto sulla sicurezza Sì, non fa altro che parlarne Questo è sicuro